Siamo qui con Mr. Magliano, da poco ho finito il derby con il Centallo, 1-1 come all'andata. Che partita hai visto? Tosta, ho visto una partita bella, grandi ritmi per tutti i 90 minuti, due squadre che si sono affrontate a viso aperto, ho visto due squadre che volevano assolutamente portare i tre punti a casa, ho visto grandi intensità, anche giocate dal punto di vista tecnico assolutamente interessanti, ho visto una partita piacevole da tanti punti di vista e quindi niente, ho visto una partita che mi ha fatto piacere per quello che siamo stati in grado di proporre, sono fatti i complimenti ai ragazzi, sono contento di quello che abbiamo proposto. Forse con l'uomo in più potevate fare qualcosina di più o c'è un po' di rammarico? Allora, per assurdo forse abbiamo creato di più in parità numerica che nel momento in cui siamo stati in superiorità. Devo anche dire che quando si è in superiorità devi per forza di cose cercare di proporre, aprire gli spazi, non è così scontato e non è così semplice. Noi arrivavamo da tre giorni fa di una partita nella quale eravamo in condizione opposta, ci siamo difesi e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Quindi l'uomo in più non sempre è garanzia di creare occasioni. Ci è mancato probabilmente un po' di lucidità, però io devo anche mettere sul piatto della bilancia che tre giorni fa praticamente 9 undicesimi hanno fatto 65 minuti al Paschiero. Oggi siamo venuti qua a grandi ritmi e ci siamo presentati dopo pochi minuti con un altro mezzo esordiente in campo, un 2005 e tutto un po'. Sono assolutamente contento di tutto quello che ho visto. La stagione come è stata? Positiva? La stagione è stata assolutamente positiva. L'unico ramarico è quello di non aver potuto creare quella sana competizione nei ruoli, nello spogliatoio legata alle alternative. Però fa parte del gioco. Io ho giocato a pallone e mi sono rotto nel ginocchio a x volte. Fa parte del gioco. Quest'anno è stata un'annata da quel punto di vista lì non fortunatissima, però andiamo a leggere l'aspetto positivo. Nonostante questi inconvenienti che fanno parte del gioco, io ho visto una squadra che è cresciuta decisamente sia a livello individuale che a livello di complesso. Quindi un'annata assolutamente positiva. Grazie.